Andrea Damante in studio al GF Vip? La frecciata a Giulia e Ignazio Moser Andrea Damante sarà in studio al Grande Fratello Vip lunedì? La prima frecciata a Giulia e Ignazio Moser Andrea Damante, lunedì, sarà in studio per sostenere la sua dolce metà Giulia Delellis al Grande Fratello Vip? Tra poco ve lo sveleremo, ma prima bisogna affrontare un'altra questione, il primo mugugno nei confronti della fidanzata da parte dell'extromista di Uomini e Donne Motivo? Giulia e Ignazio Moser paiono molto in sintonia e pare che un piccolo allarme sia scattato Il di Lunga Veronese infatti, sulle Instagram Stories, si è lasciato sfuggire un commento, che pare proprio essere una frecciatina condita da una punta di gelosia. Andiamo a scoprire tutto Grande Fratello Vip, Giulia e Ignazio sempre in squadra insieme, Damante sarà in studio dopo la frecciata? Giulia Delellis, al momento, è stata la grande sorpresa del Grande Fratello Vip, in pochi avrebbero scommesso che riuscisse a mettersi subito in sintonia con tutti i coinquilini della casa, cosa che invece è successa. In particolare, c'è affiatamento con il bel Ignazio Moser. Nulla di compromettente, certo. Tuttavia ad aver notato la sintonia è stato anche Andrea Damante, che dalle Instagram Stories, in cui ha postato un video dove la fidanzata gioca a bigliardino con lo sportivo, si è lasciato sfuggire, sempre in squadra insieme. In diversi hanno notato una punta di allarme nelle sue parole. D'altra parte come non comprenderlo, l'amore si nutre anche di piccole gelosie, che se ben dosate sono sintomo di un legame vero e forte. Ora andiamo a scoprire se l'ex tronista sarà in studio lunedì. Damante sarà in studio lunedì al Grande Fratello Vip? Sorpresa in vista per Giulia De Lellis. Il DI lunga veronese ha concluso il suo viaggio lavorativo in America ed è già sbarcato in Italia, facendo tappa nella sua Verona. Per lunedì sera, non ci sono in programma sue serate in discoteca. Dunque, con ogni probabilità, siamo in grado di svelarvi che Damante presenzierà alla diretta del Grande Fratello Vip per sostenere la sua Giulia e magari per chiedere un chiarimento sul suo affiatamento con Ignazio. Tra l'altro, la De Lellis, che ieri ha raccontato la straordinaria storia del suoi genitori, da quanto affermato nella casa, pensa che il suo love sia ancora negli Stati Uniti, che sia stata programmata una sorpresa. Grazie a tutti.